L'Italia è un paese giovane, che sì sì sì, sembra di nome un paese giovane, nel senso che è un paese che non ha una tradizione vera di festival, non ha una tradizione vera del fatto che tu puoi andare a sentire della musica e divertirti, portarti a casa qualcosa e rimanere anche in quella condizione lì per un tempo più lungo. Io penso che siamo all'inizio di questa possibilità qua. La gente impara ad andare a un festival, capisci che cos'è, e occasioni come queste qui, dove il festival non è soltanto un momento di consumo, dove tu paghi un biglietto e vai a vedere un idolo, questo è il posto più figo del mondo per me, il festival più figo del mondo, perché non ci sono realmente degli idoli.